9. Le sparpaglia. Che cos'è il principio vitale? Commento. Per il materialista il principio vitale è quella forza misteriosa che aggrega le molecole del nostro corpo durante la vita. 10. La differenza tra un corpo vivo e un corpo morto è che nel primo caso il principio vitale è attivo, mentre nel secondo caso è inesistente. 11. Per lo spiritualista invece il principio vitale è attivo sia nel corpo vivo e sia nel corpo morto. 12. Nel corpo morto infatti il principio vitale ubbidisce ad un'attrazione superiore che separa le molecole e le sparpaglia nello spazio come accade nel cadavere. 12. Nel corpo morto infatti il principio vitale. Grazie a tutti.